Dramma nel mondo della box. Il pugile venezuelano Edwin Valero si è infatti tolto la vita nella sua cella in carcere. Lo ha comunicato la polizia venezuelana. Valero era stato arrestato perché sospettato all'omicidio della moglie, Jennifer Viera, trovata senza vita con tre ferite di arma da taglio. Valero, 28 anni, è stato campione del mondo nei pesi piuma VBA e nei pesi leggeri VBC, con 27 incontri vinti per knockout in carriera. Il venezuelano nei mesi scorsi era stato in cura per dipendenza dall'alcol.